Sono qui per chiederti scusa, ti prometto che non accadrà più, ti prego amore mio perdonami Ah ma non lo vedi che è sincero? Io fossi in te gli darei un'altra possibilità, perché lui è unico, è speciale Ma speciale che cosa? La che faccia da pirla che c'ha? E poi volevo ricordarti che ti ha tradito due volte, non la esclude che lo faccia la terza Guarda, il mio oroscopo dice che oggi non posso fidanzarmi e io non posso andare contro il destino Ehi, lo so che è buono e lo so che non vedi l'ora di mangiarlo, ma non è meglio condividerlo Ma condividerlo che cosa? Che l'altra volta stavi morendo di fame, non solo non ti ha lasciato l'ultima fetta di pizza, ma si è mangiato pure il tiramisù stop Dai amici, ti ha solo chiesto di uscire, non c'è niente di male, si vede che ci tiene io, mentre vedo un po' di tenerezza Ma tenerezza che cosa? Questo si chiama stalkeraggio, se non ti rispondo le prime 74 volte vorrà dire qualcosa Basta, lo blocco Questo è per te, per i nostri due anni Grazie Una sciarpa, bella, d'estate Ehi, Alice, non voglio essere banale, ma ricordati che l'importante è il gesto Ma gesto che cosa? È una merda, e poi al vostro anniversario ti regala una sciarpa Al tuo compleanno cosa fa? Ti regala una pizza surgelata dell'Evospir Anch'io ti ho fatto un regalo, tieni Un cetriolo? Tieni, mangialo, è allo stesso livello del tuo regalo, ma la differenza è che questo almeno è buono da mangiare Ah, amore, ti ricordo che la prossima settimana sono alla festa di laurea di Mario, eh, te lo ricordo Ah, sì Ehi, Alice, non stare in pensiero Non succederà nulla, è solo una festa di laurea Stai tranquilla Ma tranquilla che cosa? Che l'altra volta è tornato a casa a gattoni, senza mutande e pelato No, ma non stare in pensiero, eh Amore, non puoi andare alla festa di laurea la prossima settimana Ti sei dimenticato che è un funerale Un funerale? E di chi? Il tuo La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale